Antonio Ingroia è un PM, resta un PM anche adesso che ha scelto la politica, soprattutto adesso che la politica sta vivendo una nuova stagione da tintinio di manette, adesso che la campagna elettorale somiglia a un intermezzo tra un arresto eccellente e l'altro. E lui la vede così, conosce il nemico, è sempre lo stesso. In realtà in Italia la tangentopoli non è finita mai. Non è una nuova tangentopoli questa? È sempre la stessa con purtroppo un aggravante che è dilagata e ormai l'Italia è una tangentopoli a cielo aperto. Tutto il paese, tutta la classe dirigente, non più soltanto i politici ma anche gli imprenditori, anche i manager, gli uomini dell'alta finanza. Anni di lassismo, dice negli studi di Telenova, di connivenza di politiche quantomeno rivedibili da ambo le parti. C'è l'unico centro-sinistra che ha perso le occasioni quando è stato al governo per dare una svolta al paese e anche quando ha fatto l'opposizione, basta ricordarsi la famosa commissione bicamerale per la giustizia, ha cercato l'inciucio con Berlusconi. Ma in groia è un uomo di sinistra, la sua rivoluzione civile parla di reddito minimo per i disoccupati, di giovani precari, di lavoro. Giustizia in primo piano, ma non solo dunque. È un uomo di sinistra, ma la sua lettura del momento politico vuole sfuggire all'anti-berlusconismo to court, per lui la lucidità impone altri allarmi. Il principale responsabile del disastro italiano ha un nome, si chiama Silvio Berlusconi, questo non c'è dubbio. Il punto è che io dico dal punto di vista del pericolo politico, io ritengo che Berlusconi non sia più un pericolo, perché Berlusconi è politicamente finito, non ha nessuna chance per tornare al governo, mentre molti ha più chance di entrare al governo proprio perché Berlusconi di fatto se lo sta allontato. Vabbè, se c'è il pareggio al Senato.